Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono qui con mio cugino e siamo su Minecraft, la nuova serie Ok, oggi, per cavolo i miei, intanto ho fatto il tetto, ho finito Ora facciamo parlare un po' Simone e vediamo che cosa ci dice lui Beh, innanzitutto, questo è il mio primo video insieme a Marco quindi grazie per avermi invitato in questo video No, ma il canale lo faremo insieme Cioè, se non c'è, molte volte non ci sarà, forse Cioè, non c'è, magari sta impegnato, non viene Probabilmente li farà Marco qualche volta da se li video perché io, forse, qualche volta non verrò Però ora stiamo facendo il mio nuovo parquet Io sono un tipo, come dire, che fa le cose bene Ok, ora ci dobbiamo costruire una bella porta Abbiamo un po' di fame e mangiamo Ma non possiamo morire perché non c'è audio oggi perché non ci siamo preparati un po' bene Magari ora inizia una nuova musica Ah, innanzitutto, se ti vuoi costruire Cos'è che ti devi costruire? Una casa No, ora che hai detto che ti serviva, che ti devi costruire Ehm, la porta Ah, è vero, vai, 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 vai in casa Vai, prendi la crafting table Ehm Ma, oh, si sente troppo forte E' craft, e' craftati la La porta Si sente troppo forte Ok, ragazzi Ora stiamo andando Ehm, a cercare qualche albero Non serve l'albero C'è le gioie a sedilegni Ora basta che vai a casa Vai nella crafting table E ti crafti la porta Ok, e' Ehm, oh, un maglialino Che bello Ok, ragazzi Ehm Ehm Quel ragazzo che mi ha messo Ehm Like E' commentato Ehm Forse mi vuole fare avere tanti like Ok Grazie a quel ragazzo Grazie mille per il momento E' Vi E quindi Si sente Troppo forte Qui Qualcuno abbassa il volume Che è troppo forte C'è che deve dire la gente Ok, ragazzi Giukas Sono io Non ve l'ho detto Ah, io sono Dark Simon, è vero Già, Dark Simon Quello che è Non fa più video E' lui E' oggi E' con me qui Dark Simon Ok Ehm La crafting table per la porta No ma Ah, la crafting table Ok Grazie Eccola, sta là Ok Ok Non possiamo Si, te la sei fatta Ok Mettila, vai Ok ragazzi Ora abbiamo pure una porta Guardate che figata Le torce Le torce Per il momento Non ci servono torce Perché Però ora Scaviamo un poco No Ok, ora Stiamo scavando Un No No, ma non te li dai I blocchi di ferro Se li scaghi con le mani Di pietra Eh Ah Ragazzi Mi è venuta un'idea Facciamoci una casa di sciottolo Due case Vabbè Ehm Ora come usciamo Ah, abbiamo la terra Per fortuna abbiamo la terra Ragazzi Se non avete notato Abbiamo lo stesso materiale Dell'altro episodio Che bel parola Ma vero Però ragazzi Uh Ho trovato una grotta Eccola lì Ragazzi Io Vi ho detto Già nel primo episodio Che non sono scarsa Non si fa niente Ho visto una cosa qui Tipo grotta Ora Lasciamo la parola Simone Ok Innanzitutto Prenditi Ah no Non te lo dai il carbone Se lo fai con le mani Eccola la pietra Ok Ora facciamo giocare Simone Simone Fai qualche piccone Prendiamoci le cose Ok Ok Allora Però non distruggerete Tutta la mappa Come risaliamo ora di là Lo so io come risaliamo Poi me lo dai a me Ehm Facciamo Ok ragazzi Vi ricordo già da ora Che Mettete di mettere un like Arriviamo a Tre like Si dai No Cerchiamo di riarrivarci Riarrivarci si Poi magari In futuro arriviamo Bo Cinto like Ma dopo tanto tempo Cioè non Poi Ragazzi Ci sono tante sorprese Che vi faremo vedere Perché Faremo tante cose Noi Allora Ah Non è Non è Con legno No Devo andare a cercare alberi Con questi assi Mi sa che Non ci riusciamo a fare Neanche niente Devo Ci sono Ci sono Gli stradicati tutti Già gli alberi A quanto vedo Aia Sali Ok Ok ragazzi Nel prossimo episodio Abbiamo Abbiamo già pianificato Che cosa faremo Però Non ve lo facciamo vedere Lo vedrete nel prossimo video Si Faremo tutto quello Che Meno vi aspettano Non potete neanche immaginare Quello che Faremo E poi vi faremo pure Vedere un'altra cosa Che abbiamo Oggi Ho fatto in un altro mondo Veramente ragazzi Non vi incuriosite Perché Cioè Una cosa che fanno Quasi tutti Non vi incuriosite Proprio tanto Però Almeno un pochino Dovete cercare di farlo Perché troverete Una sorpresa assurda Assurda Eh Però Non dite che Cioè Poi faremo Tanti altri Episodi su minecraft Una serie Completa Hai detto bene Marco Una serie Che è iniziata Da un episodio Cioè quello di ieri Questo è il secondo Già Secondo episodio Dove un altro albero Quanto legno abbiamo? Sei Dovremmo riuscirci Tipo a fare Sì C'era un altro qua sotto Se non l'hai già Sradicato Parliamo di No sta Di che cosa parliamo Di minecraft Se volete Se volete Darci dei trucchetti Per giocare a minecraft Arriviamo Vi diciamo I trucchetti Nel prossimo video Di minecraft Vabbè Arriviamo Nel Se volete Il trucchetti A 5 like Già Arriviamo A 5 like Se volete I trucchi Però scusateci Se aspettate Già giocare Magari Dite Guardate a quelli Ci dicono I trucchi Noi sappiamo Già giocare Vabbè Almeno Può darsi che voi Può darsi che non sono I stessi trucchi Che sapete voi Può darsi che i nostri Funzionano veramente I vostri No Ho detto Può darsi Non sto dicendo Che è sicuro Ma proprio per niente Guardate che bella casa Ragazzi Nello scorso episodio Vi ho fatto vedere Che C'era tipo Qualche cosa Il mare Ok Ah Armi Ecco Che ci mancano Ok Aspetta Devo fare Le assi No Il piccone No Devo fare le assi E poi il piccone Abbiamo tanti Oh Usa quei bastoni Lì Che ci facciamo Un piccone Allora Dove ci sono le anni Ah ecco qua Allora ci facciamo Prima di tutto Una piccozza Poi una pala Una spada E un'ascia Poi magari Ora siamo pronti Ora Ora cambiamo turno Lasciamo giocare Ma Allora Innanzitutto Marco Devi trovarti una miniera Quella ti va bene Lo so Quella lì Quella là Possiamo pure lì Una casetta Eh ma ci vuole Tanto tempo Per costruire lì Ah abbiamo tanta fame Possiamo fare una nostra miniera Lì Ok ragazzi Poi Nel terzo episodio Ragazzi Troverete l'impossibile Veramente A Minecraft Vai Cioè Troverete l'impossibile Faremo tipo Questa serie Non la dimenticherete mai Poi faremo la seconda stagione Molto meglio di altri youtubers Vai Marco Scavi il carbone Ok ragazzi Ora abbiamo cambiato turno Ora sto giocando io Perché il multigiocatore Non si capisce niente Cioè potremmo giocare Cioè potremmo giocare Però non capirete chi è chi Ma quanto carbone Abbiamo ancora ragazzi Marco Sì Cosa c'è Se c'è tanto carbone È una buona Eh sì che c'è Che si sta facendo notte Se c'è Ragazzi scappiamo Se poi arrivano le zombie È vero Abbiamo tolto Modalità relax Ora è modalità normale Già Perché mi ero scocciato Di non vedere un po' di zombie Però Non mi scoccerò ora Marco domani mattina Nel gioco Dovevo ritornare nella miniera Perché quando c'è tanto carbone Con le vicinanze Ci sono i minerali di ferro Eppure d'oro forse Vabbè L'oro è raro Vai No Sono di notte Non è ancora notte Aspetta Ok aspettiamo Vedi dalla finestra C'è dalla porta Non è una finestra Peccato Dai dormi Brutto personaggio Ok Ora torna A proposito Ti devi mettere le altre Aspetta Ti devi mettere le altre cose Dall'inventario qua Prendi la pala Sì giusto Mettitele Tutte queste armi Mettitele qua Però il piccone Si sta consumando Ragazzi Nè C'è ancora tempo Questa mettila qua Prendi la pala E metti la pasta No la pala Non so se avete notato Che nello scorso episodio Avrivamo Gli stessi identici materiali Uguali Cioè Non è cambiato niente Dallo scorso episodio Prendi la pala E metti la pasta Dei fiori Quindi per cavolo Qualcosa mi serve Marca torna in miniera Prima che si faccia notte Ok ragazzi Mi è venuta un'idea Ragazzi ora Verena per questo video Verena per questo video No Non è finita Facciamo un Vabbè pazienza Ci vediamo nel prossimo episodio Per questo video è tutto No ragazzi No ragazzi Non lo finiamo Facciamo Prendiamo qualche ciotolo Facciamoci una fornace Poi finiamo il video Ok Perché ci vorrebbe tanto Una fornace Per il carbone Anche il carbone È indispensabile il carbone Ci Sì Abbiamo una nuova Tutto Ci serve Ragazzi Abbiamo una nuova miniera Perché Cioè Ci abbiamo fatto un sacco di cose Per ora questa miniera Però poi quando ci allontaniamo Da questo posto No Non ci allontaneremo Da questa zona Vabbè Qualche volta Dobbiamo partire Perché Dobbiamo andare a ricercare Di altre cose No Già Ragazzi Però non vi arrabbiate Nei commenti Che Tipo Scrivete Perché Siete partiti Perché Minecraft Non è fatto Solo per sopravvivere Anche per esplorare E morire Tante volte Tante volte Quindi Non vi arrabbiate Non vi arrabbiate Con noi Perché Vi daremo Un sacco di sorprese Ragazzi Tutti quelli che ci seguono Arriviamo Per il prossimo video Ve lo dico già da adesso Mettete altre like Dai Se vanno Rookies 5 Già L'abbiamo già detto Ok Ok rava Ah la fornace È vero Prendi il ciottolo Non mi vai Prendi l'inventario Ah no bugia Va bene qua Ragazzi Dov'è la fornace Vai Vabbè siete da queste parti Eccola No non questa L'altra No è il dispenser Questa è la fornace Vabbè Vabbè ragazzi Vabbè la costruiremo Nel prossimo episodio No Ragazzi so che il video Sta durante un pochino Tanto E quindi Dovremmo fare Cancellare qualche scena No Non lo facciamo No lo facciamo perché Aspetta Eccola No Eccola No ci manca quel ciottolo Vabbè Ok Ne prendiamo No no lascia Non ci serve No abbiamo Abbiamo abbastanza ciottolo No ragazzi No dai Ragazzi so che il video Sta ruendo Non so se si può Mettere pausa Ok ragazzi Ragazzi Per questo video è tutto Vai Continua tu Ciao Ci vediamo alla prossima Vabbè Continua Poi Ci vediamo alla prossima E ci vediamo al prossimo video Non vi dimenticate Se volete Trucchetti Arriviamo a 5 like Ciao Toro Toro Tutti